Dentro le ore 12 del giorno 5 novembre 2014 non vi sono state offerte di acquisto per il lotto unico in vendita che pertanto non si procede alla vendita senza incanto, si dà alla residenza del signor Buttiglione. Presidio dei 5 Stelle dinanzi a Palazzo di Giustizia Pescara per la terza asta della casa di Silvio Buttiglione, l'imprenditore pugliese ma residente a Montesilvano a cui è stata pignorata l'abitazione per presunti debiti con l'intervento anche di Equitalia. In questa terza asta in Tribunale a Pescara presente anche il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Gli imprenditori si aiutano prima quando hanno bisogno, non si scatena la solidarietà dopo che si sono suicidati ed è questo quello che vorremmo cercare di diffondere. Silvio Buttiglione è un simbolo in questo momento, ce ne sono tanti come lui, noi avevamo promesso prima delle elezioni che saremo stati con lui, siamo stati con lui adesso anche dopo e speriamo di continuare a poter essere presenti qui a vedere andare deserte queste aste e poi adesso dobbiamo interrogarci su come salvare la casa a Silvio. Molto soddisfatto e molto felice di trovarmi in una comunità perché oggi come gli altri giorni, ma lo chiedo a voi, questo è un giorno meraviglioso vedere tante persone vicino a una persona che fino a ieri era sola, abbandonata dallo Stato. Io ho quello che voglio sottolineare, che questa è l'Italia che ci vorrebbe, queste sono gli italiani che ci vorrebbero per un cambiamento, stare vicino alle persone isolate. Questa testimonianza d'affetto di oggi la spinge ad andare ancora avanti e a continuare a lottare? Ma certamente, io la forza che ho in me, anche se non vi nasconto, c'è sempre il dramma di perdere qualcosa, ma credetemi, se oggi mi fosse rimasto, dopo tutto quello che ho perso, azienda, lavoro, famiglia, affetti, tutto, mi fosse rimasto un solo pezzo di carta, l'avrei difeso come sto difendendo questa casa.